Il video di oggi riguarderà la formalizzazione o l'introduzione alle formalizzazioni delle logiche modali. Sarà un primo video in cui espongo almeno gli inizi della formalizzazione che riguarda le logiche modali. Senza perdere ulteriore tempo andiamo direttamente in medias res. Vi ho scritto logica modale minimale prima parte, ma in realtà in questo primo video che riguarda le formalizzazioni riusciremo a malappena ad introdurre quasi soltanto l'essenziale per la formalizzazione. Allora, qui ho scritto già il sistema K. K è in onore di Krip che, come ormai sappiamo, fu il primo ad introdurre la semantica dei mondi possibili, quindi la possibilità di un'interpretazione estensionale delle logiche modali. Allora, abbiamo dapprima naturalmente a che fare con un linguaggio L e questo linguaggio L è fornito di un alfabeto. Qual è l'alfabeto di questo linguaggio? Avremo lettere proposizionali, P, Q, R, S. Pensiamo a queste lettere proposizionali come sia a proposizioni atomiche sia a proposizioni complesse, quindi fatte attraverso i connettivi logici, fatte di proposizioni atomiche. Poi avremo naturalmente i simboli logici che riguardano i connettivi logici di negazione, congiunzione, disgiunzione, implicazione, ecco, e rispetto alla logica proposizionale introdurremo questo simbolo qua, che è il simbolo, avremo in più rispetto alla logica proposizionale. E il box, no? Che noi tradurremo come è necessario che, lo pensiamo come è necessario che, poi avremo le parentesi. Quindi, questo è semplicemente i mattoncini della sintassi di questo linguaggio. Per quanto riguarda la semantica di K, avremo da introdurre naturalmente il simbolo W, World, che sarebbe mondi, l'insieme dei mondi. E' un insieme non vuoto di mondi possibili. Un insieme non vuoto di mondi possibili significa che avremo a che fare almeno con un mondo. R, e già, questo ormai alcune cose le abbiamo già viste, R è una relazione di accessibilità, e già ne abbiamo parlato nei video scorsi, i è una funzione di interpretazione, che va dall'insieme F, dal prodotto cartesiano dell'insieme F, moltiplicato cartesianamente per l'insieme dei mondi, che significa che F è l'insieme delle formule proposizionali, che noi costruiamo a partire da proposizioni atomiche, connettivi logici e parentesi, questo moltiplicato per l'insieme dei mondi. Qual è il valore che ci viene dato dalla funzione di interpretazione? Noi ci mettiamo nel caso della logica classica, avremo soltanto due valori. Vero? Falso. Possiamo anche scrivere come 1, 0, quello che volete, avremo due valori. La funzione di interpretazione, data la coppia proposizione mondo, farà corrispondere a questa coppia un valore di verità. Vero? Falso. E questa è la funzione di interpretazione. Ora, il valore della funzione di interpretazione per una proposizione alfa in omega, questo è, se noi prendiamo la funzione di interpretazione alla coppia alfa-omega, dove alfa appartiene all'insieme delle formule ben formate, e al mondo omega, che appartiene a W, all'insieme dei mondi, corrisponderà il valore vero se e solo se alfa appartiene all'insieme delle formule ben formate, e questa è vera nel mondo omega, appartenente a W. Questa è la funzione di interpretazione. Ci sta dicendo, è vera in questo caso, la proposizione alfa nel mondo omole. Ed è falsa se e solo se alfa appartiene all'insieme delle formule ben formate, e questa è falsa in un mondo omega, dove appunto alfa appartiene all'insieme delle formule ben formate, ed omega appartiene ad uno dei mondi. Ora, abbiamo già parlato di struttura, WR, di modello. Il modello M è una tripla, costituito dall'insieme dei mondi, le relazioni di accessibilità e la funzione di interpretazione. Quindi, quando noi abbiamo definito un insieme di mondi, una relazione di accessibilità e una funzione di interpretazione, rispetto a queste tre entità, noi definiamo il modello che indicheremo con M. Ora, naturalmente, se noi parliamo di semantica, parliamo di verità, e quindi dobbiamo dire quando una certa formula ben formata è vera e quando è falsa, in un certo mondo, anche quando si tratta di formule composte da proposizioni atomiche. Quindi dobbiamo occuparci della definizione di verità di una formula, rispetto ad un mondo in un certo modello M. Ora, avremo un modo per elencare queste clausole, ognuna di queste è una clausola della semantica. Ora, io vi introduco come quasi normalmente in tutti i manuali viene definita, vengono definite queste clausole della semantica dei mondi possibili, che poi ci saranno utili per tutte le logiche modali. Però, vi dico già che questo è un elenco incompleto, e vi farò vedere, questo sarà, e sarà questo, per così dire, il nocciolo della lezione, diciamo, da un po' la sorpresa, il nocciolo della lezione di oggi, per quanto riguarda, appunto, questa introduzione alla formalizzazione delle logiche, della semantica dei mondi possibili, alle logiche modali. Fate bene attenzione. Quindi ci occupiamo della definizione di verità di una formula, rispetto ad un mondo omega in un certo modello M. Modello M, questo qui, tenetelo a mente, quindi avremo, diremo che alfa è una proposizione vera nel mondo omega, nel modello M, quindi rispetto ad una certa relazione di accessibilità, e rispetto ad una certa funzione di interpretazione, diremo che alfa è vera, e scriveremo, vedete, questo simboletto qua, asta e due orizzontali, dicendo appunto che alfa è vera, se e solo se il valore della funzione di interpretazione in corrispondenza della coppia alfa-omega ci darà il valore V. Questo è. Quindi, se omega è uno dei nostri mondi e alfa è una proposizione atomica, e questa proposizione atomica dice la mela sta sul tavolo, ok? E voi per mondo omega intendete il mondo, per esempio, di ieri a mezzogiorno, ok? Per mondo omega intendete il mondo di ieri a mezzogiorno. Se voi dite la mela sta sul tavolo nel mondo omega, voi volete significare, volete dire che ieri a mezzogiorno la mela sta sul tavolo. Dimenticate ora i verbi, diciamo il tempo dei verbi. State dicendo ieri a mezzogiorno la mela sta sul tavolo. Se realmente per voi il mondo omega era il mondo di ieri a mezzogiorno e la vostra mela stava sul tavolo, allora voi avrete detto la verità e la funzione di interpretazione assume il valore V. Ecco, proprio semplificando al massimo la questione. Ma il mondo omega potrebbe essere il mondo di oggi a mezzogiorno, oggi a mezzogiorno la mela non sta sul tavolo, quindi in quel caso avreste assunto la formula che non è vera, quindi è falsa. La mela non sta sul tavolo. Attenzione a questo lavoro qui, perché qui, ora, quando passiamo alla negazione di alfa, noi diremo che la negazione di alfa è vera nel mondo omega del modello M se è solo se la funzione di interpretazione su alfa, omega, è falsa. Fate molto bene attenzione, perché noi stiamo dicendo, qui, ve lo dico, ve lo anticipo, che avremo da discutere proprio su questa questione della negazione. Qui voi state dicendo è vero che non alfa, è vero che non alfa nel mondo omega M del modello M se è solo se è falso che alfa nel mondo omega. Ora, questa è una definizione che va bene se la proposizione è una proposizione atomica o un complesso di proposizioni atomiche. Chiaro? Un complesso di proposizioni atomiche, cioè è una proposizione appunto appartenente alla logica proposizionale. Se però noi consideriamo una proposizione alfa in cui entrano in gioco i quantificatori, non avremo più a che fare con una funzione di interpretazione che per così dire prende in entrata delle semplici proposizioni della logica proposizionale, ma avremo a che fare con una funzione di interpretazione che prende in entrata, quindi in una delle due coppie anche dei quantificatori. Quindi questa definizione richiede di essere affinata per dire qual è il valore come come opera questa funzione di interpretazione. ve lo anticipo così per quello che diremo fra un po' sarete già pronti. Ora naturalmente alfa e beta è vera quindi mettiamo che nel mondo omega del modello M se e solo se l'interpretazione di alfa nel mondo omega è vera et l'interpretazione di beta nel mondo omega è vera. Vedete ho indicato questi simboletti no? Questa che cos'è? l'interpretazione di alfa l'interpretazione della negazione di alfa l'interpretazione della congiunzione qui avremo analogamente l'interpretazione della disgiunzione attraverso il vel latino e poi avremo l'interpretazione di alfa implica beta e diremo per esempio quindi alfa o beta è vero nel mondo omega del modello M se e solo se l'interpretazione di alfa nel mondo omega è vero vel latino l'interpretazione di beta nel mondo omega questo vel significa o ma è un o inclusivo l'or della programmazione alfa implica beta è vero nel mondo omega del modello M se e solo se l'interpretazione di alfa in omega è falso vel or o l'interpretazione di beta in omega è vero poi dobbiamo dare l'interpretazione di questo box alfa che significa che noi intuitivamente traduciamo come è necessario che alfa è vero nel mondo omega del modello M se e solo se ecco qui un po' di attenzione in più l'interpretazione di alfa in un mondo omega asterisco è vera quindi il valore della funzione di interpretazione in corrispondenza alla proposizione alfa nel mondo omega asterisco è vera per ogni mondo omega asterisco appartenente all'insieme dei mondi W che noi stiamo considerando tale che il nostro mondo omega in cui diciamo che è vero e necessario che alfa accede in omega asterisco tale che il nostro mondo omega accede ad omega asterisco ora qui dovrebbe naturalmente dopo i video che ho fatti dovrebbe essere chiaro che cosa significa questo fatto però vi dico una cosa subito voi notate subito che è necessario che alfa è vero diremo diremo che è necessario che alfa è vero se abbiamo se e solo se per ogni mondo omega asterisco appartenente all'insieme dei mondi tali che omega che è il mondo in cui valutiamo che è necessario che alfa è vero accede ad omega asterisco sia che l'interpretazione di alfa in omega asterisco è vera ok questa frase qui per ogni omega asterisco appartenente al doppia v tale che omega accede ad omega asterisco et i alfa omega asterisco uguale a v questa frase qui questa proposizione qui fa entrare in gioco i quantificatori quindi questa proposizione non è più soltanto una proposizione della logica proposizionale non è semplicemente una proposizione della logica proposizionale proprio perché fa entrare in gioco i quantificatori sarebbe già è già una proposizione della logica del primo ordine questo può creare alcuni problemi che però si risolvono ve lo dico perché su questo su questa questione su questa questione alcuni manuali saltano diciamo non fanno notare questa questo tipo di problema validità in un modello se voi avete se noi vogliamo diciamo quando diciamo che una alfa proposizione è vera in un modello m diciamo che alfa è vera quando vedete questo non è vero alfa è vera nel modello m se e solo se alfa è vera nel mondo omega del modello m per ogni mondo omega appartenente all'insieme dei mondi w che rientra nella definizione del modello quindi si legge questa qui si legge alfa è valida nel modello m se e solo se alfa è vera in ogni mondo omega del modello m concetto di validità diremo che alfa è valida senza specificare il modello naturalmente se e solo se alfa è valida nel modello m qualunque sia il modello m e quindi in questo caso diremo che alfa è valida se e solo se è valida in ogni modello questo per abbozzare una prima risposta sul concetto di validità conseguenza logica allora sul concetto di conseguenza logica se noi consideriamo x un insieme di formule diremo che alfa è una conseguenza logica dell'insieme di formule x quindi voi di formule ben formate di proposizioni ok diremo che alfa è una proposizione in logica formale è una formula ben formata è una formula ben formata che è conseguenza logica di un insieme di altre formule ben formate x se e solo se per ogni wri quindi per ogni modello e per ogni omega appartenente a w se per ogni f appartenente all'insieme delle formule x f è vero in omega nel modello wri quindi se ognuna delle formule che costituiscono x è vera nel modello m allora diremo che alfa è vera nel mondo omega del modello m quindi diremo che alfa è una conseguenza logica di x dell'insieme di formule se tutte le formule f che costituiscono l'insieme delle formule x sono vere nel nostro modello ed in seguito a questo alfa risulta essere vera nel mondo omega in cui queste sono vere del nostro modello questo è il concetto di conseguenza logica di alfa da un insieme di formule x ora come potete vedere questo simbolo che noi abbiamo introdotto dipende naturalmente dalla logica usata perché noi abbiamo tradotto vedete attraverso la funzione di interpretazione questo simbolo se vuoi se ritorniamo all'elenco delle nostre clausole vedete c'è questo simboletto qua che dipende dalla funzione di interpretazione ma quindi dipenderà dalla logica che noi abbiamo usato in poche parole se noi avremo una logica più valori il significato di questo simbolo è vero dipende dalla logica che abbiamo usato se abbiamo una logica più valori cambierà il significato di quel simboletto stesso esso è tale quindi che a logiche diverse corrisponderanno semantiche diverse anche su questo vi pregherei di fare attenzione perché se a logiche diverse corrisponderanno semantiche diverse possiamo anche pensare di dare una semantica alle diverse logiche pensateci su quello che ho detto poi se ci sarà tempo ve ne farò vedere qualche esempio ora andiamo alla definizione del diamond quindi abbiamo dato una definizione del box alpha noi abbiamo dato un'interpretazione abbiamo dato una semantica per box alpha è vero in omega m se e solo se la funzione di interpretazione in alpha omega asterisco assume il valore è vero per ogni omega asterisco a cui accede il mondo omega a cui accede il mondo omega ora ci aspettiamo una definizione di del diamond come abbiamo dato una definizione necessaria che diamo una definizione di è possibile che e lei la diamo dal punto di vista intuitivo sappiamo che dire è possibile che alfa equivale a dire non è necessario che non alfa ok poi intuitivamente noi diciamo che è possibile che la mela stia sul tavolo se non è necessario che la mela non stia sul tavolo ok questo significa che è possibile che la mela stia sul tavolo questa qui è una nostra intuizione dobbiamo cercare di portare questa intuizione nella semantica che abbiamo definito e ora vi accorgerete che nasce una prima difficoltà che alcuni manuali risolvono altri no altri per così dire danno una soluzione senza entrare nel merito e nel dettaglio di questa piccola piccola insomma che poi si approfondita non è tanto piccola difficoltà come traduciamo in termini della nostra semantica tale intuizione quindi l'intuizione è possibile che alfa significa che non è necessario che non alfa ok vogliamo un modo per tradurre questa nostra intuizione nei termini della semantica delle clausole semantiche che noi abbiamo introdotto e uno dice va bene basta cominciare a scrivere non è necessario che non alfa e quindi scrive nego box nego alfa e quindi scriviamo il relato semantico e diremo nego box nego alfa è vero in omega del modello m e a questo punto però nasce un problema io ho fatto una diciamo una procedura bovina ve lo dico perché capita proprio di vedere una procedura del genere e poi qualcuno che è indotto a fare questa procedura si blocca ma si blocca proprio perché non può procedere rispetto al problema che avevo detto prima in che senso se voi dite negazione box negazione di alfa è vero in omega m e andate a prendere la clausola no che definisce la negazione di una proposizione eccola qui procedete appunto in maniera bovina come una mucca senza ragionare un attimo su quello che sta succedendo voi avrete se e solo se l'interpretazione di alfa a posto di alfa siccome qui c'è la negazione ci mettete è necessario che non alfa perché avete eliminato questa negazione qui ok nel mondo omega uguale ad f poi potete ancora procedere e dire vabbè allora dico che cos'è necessario che non alfa perché qui vi fermate vi fermate perché qui nell'argomento non avete una proposizione perché avete è necessario che non alfa non potete dire è vero è falso come lo dite su una proposizione andiamo ad interpretare quindi è necessario che non alfa se e solo se l'interpretazione della negazione di alfa omega asterisco uguale a v per ogni omega asterisco appartenente al mondo tale che omega accede ad omega asterisco e in questo caso avrete questa interpretazione però come vi avevo fatto notare prima voi al posto di una proposizione o atomica o una proposizione complessa che otterrete attraverso connettivi e proposizioni atomiche avete una proposizione come vedete che fa entrare in gioco se voi andate a sostituire qui dentro questa proposizione avete una proposizione che fa entrare in gioco i quantificatori quindi avrete da interpretare una proposizione che è propriamente del primo ordine non è più una proposizione della logica proposizionale e questo qui è un problema e questo qui è un problema perché noi abbiamo definito attraverso questa clausola sulla negazione la funzione di interpretazione per alfa ma questa alfa sono considerate delle proposizioni della logica proposizionale e non delle proposizioni di una logica del primo ordine che fa entrare in gioco i quantificatori ora come si risolve questo problema questo problema si può risolvere in maniera diciamo abbastanza semplice alcuni manuali lo fanno e altri manuali non lo fanno ecco qui nasce il problema come lo si risolve allora io vi do la soluzione però vi faccio vorrei che si rifletta almeno sulla questione che filosoficamente può interessarci di più diciamo su questo punto allora come risolve il problema il problema si risolve aggiungendo una clausola a quelle che noi abbiamo già scritto però attenzione la clausola che andiamo ad aggiungere è una clausola un po' particolare vediamo qual è noi diremo che è vera la negazione di alfa nel mondo omega del modello m se e solo se non è vera alfa nel mondo omega del modello m ora vorrei dire una cosa quello che sta accadendo in questa diciamo in quanto vi sto dicendo in questa clausola qui ok è qualcosa di particolare perché in realtà stiamo spostando questo operatore di negazione dalla proposizione alfa dal dire è vero non alfa al dire non è vero che è alfa capite qui l'operatore di negazione ha come proprio dominio una proposizione della logica proposizionale alfa qui l'operatore di negazione opera su una semantica di questa logica e dice non è vero che alfa questa è la questione che dal punto di vista filosofico dovrebbe essere snocciolata per bene per come la interpretiamo noi diremo che è vero che non alfa nel mondo omega del modello m equivale a sto traducendo quanto ho scritto qui in questa clausola è vero che non alfa nel mondo omega del modello m equivale a non è vero che alfa nel mondo omega del modello m ok una volta che voi aggiungete questa clausola riuscite con questa nuova clausola a formalizzare questa intuizione negazione di box negazione di alfa equivale ed è possibile che alfa di fatti in questo caso ora si possiamo procedere e scrivere non è necessario che non alfa è vero nel mondo omega del modello m se è solo se è necessario che non alfa non è vero nel mondo omega del modello m ma appunto è necessario box negazione di alfa che non alfa questa stanghetta mi dice non è vero nel mondo omega del modello m se è solo se questa è la clausola ora semantica che noi andiamo ad avere non è vero che questo vedete è ciò che noi dobbiamo dire in più rispetto alle clausole della semantica che avevamo introdotto prima e dare un concetto di negazione su questa proposizione che è una proposizione del primo ordine perché fa entrare in campo il quantificatore questa è la precisazione che ci tenevo a fare quindi diremo questa non è vero che il valore dell'interpretazione ecco ora sì sulla negazione di alfa omega asterisco è vera per ogni omega asterisco a cui accede omega ora dire che non è vero questo non ora non è il non che c'è qui l'ho fatto per semplificare significa non è vero che se io scrivo non è vero che questo che c'è scritto qui dentro tra le parentesi quadre dire questo equivale a dire a che cosa ora che cosa fate voi mentre state dicendo di negare questa proposizione questa proposizione vi dice che il valore di verità di della proposizione non alfa in omega asterisco è vera per ogni omega asterisco a cui accede omega quindi se voi volete negare questa proposizione dovete dire che esiste almeno un mondo in cui la negazione di alfa è vera e questo mondo e a questo mondo riesce ad accedere omega l'operazione di negazione che voi fate questo è ciò che io cioè ciò che mi preme sottolineare l'operazione di negazione che voi state effettuando in questo caso è un'operazione che richiede la negazione di un quantificatore e nelle clausole che noi abbiamo messo che normalmente si mettono per quanto riguarda la logica proposizionale cosa accade che non c'è il la come dire la clausola che vi dice come negare un quantificatore perché non c'è come dire che non negare che per ogni x fx no non vale significa che esiste un x per cui vale fx no allora in questo caso qui vi ripeto avete bisogno di una negazione che si occupa di proposizioni di una logica in cui compaiono i quantificatori per ogni ed esiste è la negazione del quantificatore per ogni sappiamo che esiste eccetera comunque questo è il punto non basta il concetto di negazione dato dalla logica proposizionale per avere il concetto di negazione quando noi parliamo di logica modale proposizionale perché abbiamo a che fare con la negazione di un quantificatore e questo concetto di negazione non rientra nel concetto di negazione della logica proposizionale che si avvale semplicemente delle tavole di verità appunto perché in questo caso facciamo entrare più mondi possibili quantifichiamo sui mondi possibili è necessario un concetto di negazione che faccia riferimento alla negazione della logica del primo ordine e quindi ci va questa clausola in più e quindi andiamo a negare questo ma ora l'interpretazione di un alfa omega asterisco uguale a f che è falso se e solo se quindi alfa è vero nel mondo omega asterisco del modello m questo se e solo se l'interpretazione della negazione di alfa in omega asterisco è falso e dire che alfa è vero nel modello in omega asterisco del modello m se e solo se l'interpretazione di alfa in omega asterisco è vero mettete insieme apposta allo scritto tutto questo perché non è detto che a parole si riesca quindi si riesca a dirlo bene mettete insieme il tutto e avrete che non è necessario che non alfa è vero nel mondo omega del modello m se e solo se esiste un mondo omega asterisco appartenente all'insieme dei mondi tale che omega accede ad omega asterisco è l'interpretazione di alfa nel mondo omega asterisco uguale a v ma vi ripeto siamo giunti a questo risultato che coincide con la nostra intuizione proprio introducendo la nuova clausola che è questa che ve la riscrivo qui in questo modo in questo modo possiamo appunto dire che abbiamo formalizzato la nostra intuizione che è non necessaria che la nostra intuizione che diceva che non è necessario che non alfa equivale ed è possibile che alfa ve l'ho riscritta ancora una volta qui e avremo quindi dato forma alla nostra intuizione che non è necessario che non alfa equivale a dire è possibile che alfa però vi ripeto per fare questo abbiamo avuto bisogno dell'introduzione del concetto di negazione per una logica quantificata non c'è bastato cioè andare a vedere qual è il concetto di negazione dato dalle tavole di verità date dalla logica proposizionale ma abbiamo dovuto fare riferimento al concetto di negazione per una logica quantificata allora io mi preoccupo di formalizzare e di scrivere le formalizzazioni e ci tengo per così dire a precisare alcuni punti che in alcuni casi alcuni manuali trascurano eccetera eccetera di fare quindi questo lavoro un po' anche che può sembrare in qualche senso un po' noioso perché penso che le formalizzazioni siano comunque di enorme importanza se si trascurano in certi argomenti le formalizzazioni si rischia di non dire niente o di dire alcune cose per così dire in certi casi errate trasportate da un linguaggio non adeguato per cui andrò ancora avanti con le formalizzazioni perché reputo appunto che per parlare anche dal punto di vista filosofico di concetti come necessità possibilità è necessario affrontare tutto questo anche da un punto di vista formale secondo quello che i filosofi hanno proposto e secondo qualcosa che si potrebbe proporre ma sempre nell'ambito di una certa sistematicità di formalizzazione poi in certi casi si può pensare di avere un'intuizione che tende per così dire ad uscire fuori da questi sistemi formali ma allora lo si dice e si dice ancora questa idea che si sta presentando non è stata formalizzata però l'idea può essere questa e deve essere affinata deve essere migliorata fino ad aggiungere ad una qualche formalizzazione il cammino è questo si parte dall'intuizione si cerca di formalizzarla e si va avanti e così via perché se no cioè senza senza adeguate formalizzazioni delle nostre intuizioni si continua a parlare a parlare a parlare non si conclude granché certo non è un cammino semplice abbiamo visto che la formalizzazione di una semantica per gli operatori modali di è necessaria ed è possibile ha richiesto che ne so dal passaggio a Clarence e a Lluis fino a per esempio a Solcrip che sono passati 40 anni cioè non è che siano dei passaggi semplici non è che si possa parlare soltanto di ciò che è già stato formalizzato si hanno delle intuizioni si introducono delle intuizioni e poi si cerca di formalizzarle il cammino è questo anche per chiarire se ci sono degli errori delle banalità in questi pensieri che si fanno vi ringrazio e al prossimo video